Dietro il comportamento attuale di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 c'è una strategia? Il pubblico ne è convinto ormai da giorni. Ma cosa sta accadendo? Nella casa di Cinecittà l'attore si è fatto terra bruciata, litigando con quelli che considera i suoi amici sin da lì. Con tutti loro, Varrese è convinto che riuscirà a battere Beatrice Luzzi al televoto. Una convinzione, la sua, che non rappresenta esattamente la realtà. Infatti, Massimiliano non è molto amato dal pubblico, come crede. E, intanto, il presunto piano che avrebbe messo in atto per far cadere Beatrice sta facendo ancora discutere. Nella serata di ieri, dopo aver litigato con i suoi amici nella casa, Varrese ha chiesto addirittura alla Luzzi di raggiungerlo nel suo letto. Paolo stasera nel letto non c'è. Se vuoi venire? Io sono libero. L'attrice ha risposto con un, ci penso. E i suoi fan sperano vivamente che non cada in una trappa. Non si sa cosa abbia scelto di fare Beatrice al GF questa notte con Massimiliano. L'attrice non è di certo una sprovveduta. Anzi sembra essere sempre un passo avanti in tutto. Infatti, nei giorni scorsi sembrava aver compreso il presunto piano messo in atto da Varrese ai suoi danni. Nonostante questo, nelle ultime ore, è possibile vederla divertirsi con l'attore, tra risate e battute. Non solo, Massimiliano si è sfogato con Beatrice nella notte su ciò che non ha prova del comportamento del resto del gruppo, come se volesse cercare da lei un'alleanza. Grazie a tutti.